Hey! Bentornati o benvenuti sul canale. I significati sono diversi, ma non è questo l'argomento del giorno. Allora, in questo video, e anche nel prossimo, vi mostro due software della Wondershare, azienda che ho sempre sfruttato per filmora che utilizzo tutt'ora per modificare i video, Edrov Max e Mind Master. Che cosa ci si fa principalmente? Ci si può creare, modificare, progetti grafici come possono essere diagrammi, flussi di lavoro, infografiche, strutture di software, schemi di ingegneria elettrica, mappe direzionali, piani di costruzione, mappe mentale, eccetera, eccetera. Dopo vediamo nel dettaglio. In questo tutorial vi mostro quello più completo, ovvero Edrov Max, quello con l'icona blu. Mind Master, ripeto, lo specifico nel prossimo video a questo. Comunque, per farvi capire subito, si tratta della versione leggera di Edrov Max, perché presenta solamente diagrammi e infografiche. In descrizione trovate il link della pagina ufficiale per poter scaricare gli applicativi. Ce ne sono altri interessanti, oltre a Edrov Max, Mind Master, magari in futuro ve li porto. Entrambi hanno le versioni di prova, perciò il mio consiglio, prima dell'acquisto, è vedere un po' come funzionano in generale, e eventualmente, se ci trovate in utilità, andreste a spendere per il software blu 99 dollari e per il software verde 49, specifico sono prezzi di base. Pesa su disco 868 MB, un bel po' pesantello, ma dentro troverete tanti contenuti. Mentre aspettiamo l'installazione, vi faccio vedere che è disponibile sul sito ufficiale un PDF contenente una guida su come utilizzare al meglio l'applicativo. È in inglese, però è scorrevole da leggere, dateci un'occhiata e sono presenti anche immagini per semplificare. Allora, io per fortuna possiedo la versione completa, così avete una visione su tutte le funzionalità. Inoltre, apro parentesi, i prodotti registrati si trovano anche nel profilo online, basta accedere con le proprie credenziali e qui avrete i vostri dati, in modo tale da installare il software anche su altri PC. Li leggo tutti? Diagramma di base, business, diagramma di flusso, marketing, mappa mentale, grafico organizzativo, gestione, strategie e pianificazione, analisi canvas, gestione progetto, sviluppo software, modellazione di database, wireframe, rete, ingegnere elettrica, ingegnere industriale, piano edificio, design grafico, organizzatore grafico, infografica, mappa, grafici e diagrammi, scienze ed educazione, bigliettino, modulo. Direi che bastano. All'interno di ogni voce ci sono vari modelli, anche divisi per categorie. Alcune fra queste sono generiche. Prendiamo ad esempio il diagramma che può essere usato per spiegare un concetto di medicina, di storia, d'inglese, eccetera. Invece ce ne sono alcuni che sono proprio settoriali, come lo sviluppo software e il piano edificio. L'esempio di schema, di diagramma, di infografica magari, lo facciamo con l'altro software, MindMaster. Io direi in questo di vedere qualcosa di più particolare, come un piano di evacuazione degli incendi. Ok, come noterete non c'è da attendere per il caricamento del foglio. Ve lo piazza subito in prima vista. Vi analizzo in generale la videata, così saprete orientarvi al meglio. In alto avete la casella degli strumenti. Vedete, interfaccia molto simile alla suite office, quindi se siete abituati su quegli applicativi riscontrerete naturalmente meno difficoltà. In sostanza potete inserire, modificare testo, aggiungere nuove pagine, creare tabelle, grafici, anche ovviamente immagini, trasformare il layout della pagina, per organizzarsi con la vista, in che modo voi volete visualizzare il progetto, insomma, i simboli, sempre con strumenti di testo e aiuto, se avete bisogno di aiuto, se desiderate magari visualizzare i tutorial online per fare pratica, per attivare o disattivare la licenza, controllare gli aggiornamenti, eccetera. Nella parte sinistra invece avete la libreria che consente di pescare delle grafiche. Se voi volete mettere un campo da calcio, un cerchio, una persona, una parete, un cartello, ecco da qui c'è l'imbarazzo della scelta. Non siete obbligati ad inserire direttamente un oggetto, avete questa comoda tendina che dà un'anteprima di quello che potete inserire. A destra invece altre opzioni più incentrate sulla personalizzazione delle grafiche inserite nel progetto. Non ve le sto a spiegare, se no il video dura in eterno. Supponiamo ora di svolgere qualche modifica a questo piano di evacuazione, del tipo devo indirizzare diversamente le vie di fuga. Magari se abbiamo le scale esterne siamo più facilitati. Comunque voglio spostare questo estentore. Ecco fatto. Adesso sposto l'omino perché questo cartello va fissato da un'altra parte. Ok, magari l'omino lo voglio giallo perché in maniera tale che si veda bene. Ora mettiamo caso che devo indicare i punti dove sono installate le videocamere di sorveglianza. Ho aperto la libreria, ho posizionato ed il gioco è fatto. Vi ho fatto queste semplici dimostrazioni così che possiate capire cosa ci si può fare con software del genere. Io lo consiglio moltissimo per chi si ritrova frequentemente a lavorare con queste cose. Prendiamo ad esempio me che in studio mi ritrovo a volte a costruire schemi, piantine, appunto progetti antincendio. Insomma è facile, pratico e veloce. Vi assicuro non è semplice creare un software del genere perché vedete che i contenuti da includere sono molti e tocca creare quel meccanismo di accessibilità alle risorse organizzate e strutturate. Vabbè, non siamo qui per comprendere come si struttura un software. Comunque avete intuito le potenzialità di Headroom Max. Ah, se non sapete come uscire dalla schermata, basta cliccare su File e vi ritroverete dalla partenza. Qui inoltre ci sono altre voci che consentono di importare e esportare i progetti. Potete convertire direttamente l'estensione in visio, pdf, in html. Inviarlo per email, insomma compatibilità ce n'è, ecco. Il video finisce qui. Mi sarebbe piaciuto molto approfondire qualche aspetto, ma purtroppo il tempo si fa sentire. Ho tanti altri video da portarvi in queste settimane, non posso approfondire tutto, altrimenti ne esco pazzo. Bene, 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 grazie per aver visualizzato. Se la veloce recensione è stata utile, non scordatevi di sempre la solita frase. Già sapete cosa fare. A presto.